Ciao, sono Francesca Figgini, ho 21 anni e abito a Saronno. Nella scorsa stagione ho giocato per il Napoli Volley in D1 e nella prossima invece giocherò per la Sub. Sarà un'avventura perché è la mia prima esperienza in A2 e speriamo di farvi appassionare sempre più numerosi. Quindi l'appuntamento è lunedì 22 agosto al Palaborsani, vi aspettiamo quindi, bye!